ai nostri microfoni svenis che oggi ha sfiorato il primo posto ai mondiali di treviso raccontaci sven cosa ti ha turbato durante la gara avevo la testa da un'altra parte pensavo che gli avversari migliori erano a trevi mi hanno detto che stamattina le due punte di diamante del team bicheland hanno dato spettacolo quassù senza andrea e matteo non ha senso correre per il podio mi hanno detto inoltre che romina ha fatto discretamente schifo e che però roberto era davvero in forma la cosa peggiore è che qui a treviso non c'è il camioncin della porchetta ciao a tutti belli e brutti